Oggi torniamo a parlare di Fedez. Potremmo farlo in due modi, o parliamo della sua discesa in campo da politico o di qualcos'altro. Come tutti sapete, infatti, Fedez è un genio. Ha iniziato la sua carriera politica come grillino, pochi sanno che ha composto l'inno a 5 stelle, ma così è. Ha poi naturalmente sproloquiato di Costituzione, come fanno buona parte dei grillini, salvo non essere in grado di applicare quei principi. Si è poi dedicato naturalmente a diventare amico fraterno degli uomini arcobaleno, e quindi ha messo al sicuro anche l'elettorato a sinistra. E infine, ma questo è un vero colpo di genio, ha collezionato più denunce querere lui di Silvio Berlusconi. Ragione per cui anche il popolo di centrodestra, quello moderatamente pregiudicato o che sta per essere giudicato, non può non provare simpatia nei suoi confronti. Di fatto, sappiamo tutti che denunciare e querelare Fedez è praticamente diventato lo sport nazionale. Questo povero uomo si ritrova, un giorno sì, e l'altro pure, una querela del Kodakons. E a questo punto, se il Kodakons lo querela, tutti possono querelarlo. E tutti comprendono anche Pietro Maso che si è sentito diffamato da Fedez. I più giovani di voi, i millennials, diranno, ma c***o c'è Pietro Maso? Pietro Maso è un giovane uomo, o perlomeno era un giovane uomo, adesso ha 50 anni, che nel 1991 è finito al gabbio per aver eliminato i suoi genitori. E questa persona si è sentita diffamata da una canzone di Fedez. I miei complimenti a Fedez perché riesce a superarsi ogni volta. Tu pensi che non possa trovarsi in una situazione più ridicola della precedente, ma lui ci riesce. Come possa farlo, resterà uno dei misteri della storia italiana. Fedez ormai lo conosciamo tutti. Su Pietro Maso, invece, sarebbe il caso di spendere due o tre parole. Non troppe, perché gli assassini di genitori non mi stanno troppo simpatici. Pietro Maso nasce in una situazione difficile. Nasce con la meningite e ha una salute molto molto fragile. Per questo motivo non ha moltissimi rapporti con i suoi coetanei. I genitori gli vogliono tanto bene, ma curano di più l'aspetto materiale che morale e sentimentale. Ragione per cui Maso, quando diventa grande, non soltanto è frustrato, ma trova conforto nei beni materiali. Lui si sente figo, fra virgolette, quando si veste bene, si cosparge di profumi costosi, gira con belle auto, va per discoteche. Il punto è che Pietro Maso inizia a spendere più soldi di quelli che guadagna. La sua famiglia è tutt'altro che povera, ma i genitori sono preoccupati da questo comportamento qui. A ciò si aggiunge il fatto che Pietro Maso, per coprire l'ammanco di un amico, ha emesso, falsificando la firma della madre, un assegno da 26 milioni di lire. Sempre per i millennial, 26 milioni di lire equivalgono a qualcosa fra 13.000 e 15.000 euro di oggi. Con 26 milioni di lire, all'epoca, ti saresti potuto comprare una Honda Civic super accessoriata. Per coprire questo ammanco e non farlo scoprire ai genitori, ha un'idea semplice e geniale. Eliminiamoli, così sicuramente non possono arrabbiarsi con me. Maso ha già pensato di eliminare i suoi genitori due volte, ma gli è andata male. Il primo tentativo l'ha fatto in stile MacGyver o A-Team. Ha pensato, in grande stile, di far saltare per aria la casa. È andato in cantina. Ha riempito la cantina con alcune bombole di gas, che in teoria, una volta aperte, avrebbero dovuto impregnare l'aria di esplosivo, e poi avrebbe dovuto far scattare una scintilla. Nella sua mente questa scintilla sarebbe dovuta scattare grazie a una sveglia collegata delle luci stroboscopiche. O, naturalmente, per non far uscire il gas dalla cantina, aveva tappato con cuscini e altro materiale idoneo il camino e chiuso tutte le finestre, che nella cantina, peraltro, credo non ci fossero neanche. Soltanto che poi, per un motivo o per l'altro, non aveva aperto le bombole, ragione per cui la casa non è scoppiata per aria. Io sono anche dell'idea che con questo modo qui non sarebbe riuscito a combinare nulla, perché la realtà è diversa dai film e telefilm degli anni 80 e 90. E, oltretutto, se vogliamo essere pignoli, Pietro Maso non è affatto né MacGyver né è mai stato un membro dell'A-Team. Dopo questo primo tentativo, Maso aveva pensato di compiere un delitto alla Tarantino, antelitteram. Sostanzialmente, con la scusa di dare a sua madre un passaggio in automobile, l'avrebbe attirata lontano da casa e un suo amico e complice, seduto sul sedile posteriore dell'auto, con una specie di arma contundente o coltellaccio da macellaio, non ricordo bene, avrebbe dovuto colpirla ed eliminarla appena scesa. Dopodiché avrebbero inscenato una rapina. Fatto sta che il suo amico e complice si è spaventato e non ha intrapreso alcuna azione. Per questo motivo la madre è scesa tranquillamente dall'auto e, ignara di tutto, ha fatto quello che doveva fare. Sventuratamente il terzo tentativo di solito è quello buono. In questo caso Pietro Maso aveva deciso di coinvolgere altri amici, perché in gruppo si fanno le cose meglio. Si era postato con loro in casa, una sera in cui le sorelle non sarebbero rientrate. Ha atteso che i genitori tornassero da una cena fuori, da un incontro con gli amici, un appuntamento in parrocchia, non me lo ricordo bene. Fatto sta che quando i genitori sono tornati hanno trovato la luce staccata dal box. Il padre è salito per primo per poter riattaccare il contatore. Una volta arrivato al piano terra è stato aggredito da Maso e dal suo migliore amico. Il padre è stato prima preso a bastonate e poi strangolato. Stessa sorte purtroppo è capitata alla madre, che è salita su a sua volta ed è stata aggredita dagli altri due amici. Questo delitto, particolarmente ferrato, è stato uno dei primi a colpire la fantasia perversa degli italiani. Il caso Maso è rimasto nella storia. C'era all'epoca una trasmissione, chiamata Un giorno in pretura, che trasmise buona parte delle udienze o gli stralci di queste udienze. Nel processo si è potuto vedere questo Pietro Maso, che arrivava sempre vestito elegantissimo, come se fosse uscito da un telefilm per l'appunto degli anni Ottanta. Alla fine del processo, Maso e i suoi amici sono stati condannati a 30 anni di reclusione. Dopodiché a Maso è stata riconosciuta la semi-infermità mentale e la sua pena è stata leggermente più bassa di quella degli altri. A memoria direi 26 anni. Fatto sta che durante il periodo di reclusione Maso continuava a ricevere lettere da parte di fan e di ragazzi che gli chiedevano Sai, vorrei anch'io fare quello che hai fatto tu. Dove hai trovato il coraggio? Come ti sei preparato? E si narra anche che ci fosse una ragazza che è stata portata dai genitori a incontrarlo. Ora, io vorrei conoscerli questi genitori. Se sono ancora vivi. C'è tua figlia che vuole incontrare un tizio che ha eliminato i suoi genitori, tua figlia l'adora per questo e tu la porti ad incontrarlo. Bravo! Papà dell'anno! E probabilmente Novax del secolo a occhie croce. Pietro Maso è poi stato scarcerato nel 2016 con qualche anno d'anticipo per buona condotta. Di fatto aveva iniziato a fare dentro e fuori dal carcere perché lavorava anche. Ragione per cui di giorno usciva, lavorava, di sera rientrava. Tra l'altro ha lavorato con telepace. Ecco, Maso è sempre stato vicino agli ambienti ecclesiastici. Da piccolino faceva anche il chirichetto. Fatto è che quando è uscito nel 2016 è stato prontamente denunciato dalle sorelle perché avrebbe tentato di estorcere del denaro da una terza persona. Tra l'altro Maso, nelle intercettazioni telefoniche che sono seguite all'apertura di queste indagini, pronunciava anche frasi del tipo «Devo finire il lavoro che ho iniziato 25 anni fa». Il riferimento, secondo gli investigatori, era per l'appunto all'eliminazione delle sorelle che nel frattempo avevano raccolto anche la sua fetta di eredità. Uno si sbatte tanto per far fuori la famiglia e poi i parenti lo fregano lo stesso. Parenti serpetti. Battute stupide a parte, questa è la storia di Maso. Come contorno ci possiamo mettere anche una copertina con chi e una specie di perverso successo consistente nel diventare ospite in diverse trasmissioni televisive. Anche per sponsorizzare un libro che aveva scritto e pubblicato proprio in quel periodo. Fedez ha avuto l'ardire di richiamare la sua vicenda in una sua canzone che si chiama «No Game Freestyle». Perdonatemi, ho usato il termine «canzone» riferito a qualcosa parlato da Fedez. Mi correggo. Fedez ha fatto dei riferimenti a Maso in un suo brano che si chiama «No Game Freestyle». Più precisamente, Fedez ha parlato di Maso in questi termini qui. «Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso. La vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso». Pietro Maso non ha apprezzato particolarmente la citazione popolare e ha querelato Fedez per diffamazione perché sostanzialmente Pietro Maso afferma che la citazione di Fedez è completamente gratuita, lede la sua onorabilità e soprattutto ricorda alla gente il Pietro Maso che era un tempo, non quello che è adesso e cioè una persona completamente diversa che queste cose qui non le farebbe più. Ora, molti di voi hanno chiesto «Che cosa ne pensi, avvocato?». La mia risposta è che sostanzialmente Fedez ha semplicemente esercitato il suo diritto di opinione e di critica. Diciamoci le cose come stanno. Pietro Maso ha avuto quella copertina su chi e quelle interviste per via di ciò che ha fatto negli anni 90. Se non avesse compiuto quegli atroci delitti, di lui nessuno si ricorderebbe. Non sarebbe mai stato notato. Dal 2016 a oggi non ha fatto nulla di rilevante per guadagnarsi un posto sotto le luci della ribalta. Ha avuto un'intervista con Maurizio Costanzo che verteva sul suo percorso di redenzione, ma non poteva esserci un percorso di redenzione, fra virgolette, se non ci fosse stato il diritto originario. E peraltro, parliamone di questa redenzione. Ora, come avvocato, devo sottolineare il fatto che dal 2016 a oggi non è in corso, per quanto ci è dato sapere, in altre condanne. Ma fatto è che anche nel 2016 proferiva frasi minacciose di quel tipo lì. Tra l'altro nel 2016, salvo errore di memoria, è finito anche in cura per abuso di sostanze di un certo tipo. Ragione per cui il nuovo Pietro Maso non è così lontano dal vecchio Pietro Maso. E detto fra parentesi, ciò che ha fatto non può essere dimenticato. Pietro Maso, piaccia o non piaccia allo stesso Pietro Maso, è famoso apposta per quello. Il suo caso è diventato iconico, viene studiato nei libri di criminologia. E la società civile, fra virgolette, lo ricorda come pessimo esempio. È con le immagini del suo processo che la mia generazione, e probabilmente anche la generazione dei miei genitori, ha imparato che c'erano persone disposte a fare qualunque cosa pur di avere un abito firmato. Prima di lui, questa cosa si sapeva, perché i mostri sono sempre esistiti, Maso non è il primo e purtroppo non è stato neanche l'ultimo, ma quelle immagini ci hanno colpito tutti. Tra l'altro avrete notato che, contrariamente al solito, ho tenuto un atteggiamento quasi scherzoso anche mentre raccontavo i suoi delitti. Questo succede perché istintivamente provo ancora lo stesso ribrezzo che ho provato per lui negli anni 90. Ma con questo non intendo ingiuriare o ledere l'onorabilità di Pietro Maso. Intendo dare atto di un fatto. Pietro Maso ha fatto letteralmente schifo a una generazione di persone. Quel ribrezzo, paradossalmente, mi è tornato utile negli anni successivi. È tornato utile perché mi ha aiutato, in negativo, a comprendere quanto fossero importanti le figure dei genitori e degli anziani in genere. E di quanto, al contrario, fosse inutile avere un bell'aspetto, beni costosi o di lusso. Un bell'abito o un'auto sportiva non dicono nulla di te, non ti descrivono, non ti rendono migliore. Maso aveva queste cose ed era il peggiore individuo che si potesse incontrare negli anni 90. E tra l'altro lui aveva colpito a tradimento le persone che gli avevano dato la vita, che lo avevano cresciuto e gli avevano dato tutto quello che poteva desiderare. Tuttavia, Pietro Maso ha fatto anche capire che i genitori e gli anziani sono persone vulnerabili che devono essere protette, sia dai nemici esterni che da quelli interni. Questo, perlomeno, è tutto quello che ho da dire sulla storia. E per quanto riguarda Fedez, per una volta, beh, direi che ha proprio ragione lui. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale, che abbiamo bisogno di crescere per fare le cose a modo nostro. Grazie ancora di tutto e a presto!